Nell'epoca del digitale sono formidabili elementi di messaggio per il futuro, questi testi miniati. Qui all'Aquila per questa mostra interessantissima, molto bella, fino all'8 dicembre. Sì, questi manoscritti miniati provengono da ogni parte dell'Europa. Sono manoscritti che hanno viaggiato molto, in questo sono per certi aspetti moderni. I frati che li hanno avuti nei loro conventi li hanno presi dalla Bohemia, dalla Francia e da tante regioni della nostra penisola. Li hanno portati per ragioni di studio, di formazione, servivano ovviamente per l'istruzione dei frati, per formarli nel loro ruolo pastorale. Andiamo avanti con questi amanuenzi che però si dotavano anche di un aiuto dal punto di vista pittorico. Sì, ovviamente il manoscritto si era particolarmente di pregio, apparteneva a un committante importante, che aveva denari da impiegare, da spendere. A seconda della finalità del manoscritto, questo poteva essere più o meno riccamente decorato. Naturalmente i manoscritti di studio sono sobriamente decorati, proprio perché avevano una finalità pratica di apprendimento. I manoscritti invece destinati all'uso collettivo nel coro delle chiese per le celebrazioni liturgiche erano invece di formato decisamente più grande e la loro decorazione era sovente particolarmente curata, sia nella mise en page, nel layout, sia nei pigmenti, nei coloranti impiegati, nell'uso delle lamine metalliche come l'oro, e in generale appunto proprio nella presentazione decorativa del manoscritto. Ci sarà anche una pubblicazione, se non sbaglio, su questa vostra ricerca che avete fatto, questa esposizione all'emiciclo? Sì, adesso alla fine di questo mese sarà pronto un volume da cui è scaturita questa mostra. La mostra è una sintesi di un lavoro più ampio, di una ricerca triennale, che è stata appunto svolta presso il Dipartimento di Scienze Umane, un mio progetto per il quale appunto abbiamo lavorato nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza e il volume presenterà tutti gli esemplari che sono confluiti alla fine del Settecento nella Biblioteca Nazionale di Napoli dai conventi francescani abruzzesi. La mostra ne presenta un'importante selezione, praticamente un quinto, che è veramente una selezione significativa per una mostra e quindi siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che è di studio, ma è anche di presentazione, di divulgazione a un pubblico più ampio di quello formato strettamente dagli specialisti della disciplina. Bene, questo all'Aquila nella sede del Consiglio regionale a Palazzo dell'Emiciclo fino all'8 di dicembre, vi aspettiamo.